Da Neutro Roberts, nuova mousse di sapone extra dolce. Beh, mio marito mi tradisce. La stanza 101, la signorina è già arrivata. Grazie. Secondo me esageri con Cirino. No, tu sei troppo giovane, non conosci gli uomini. Ma conosce bene tuo marito. Non è che sospetta di noi. Ma te ne hai. Partiamo dal presupposto che suo marito è un imbecino. Un buon presupposto. Ci possono vedere qui? In effetti hai ragione. Per approfittarne. Sono andata a letto con un altro. Sì, con l'uomo regno. In prima visione, il bello delle donne 2. Regia di Maurizio Ponzi. Domani alle 21, su Canale 5. Nuova Honda HRV Gen con impianto stereo Sony Explode. Venite a scoprirla sabato 23 e domenica 24. Non posso stare senza Otello. Otello, perché è 9. Alessia è la nuova moca elettrica dell'Ughi. Con Alessia il caffè non trabocca, perché quando è pronto si spegne da sola e lo mantiene caldo e buono per 30 minuti. Alessia, la moca elettrica dell'Ughi, che non sporca mai. Dell'Ughi, live in innovation. Melinda, vuol dire mordimi. Maria Rosa va a trovare il picchio Ferdinando, ed il picchio con il becco e la campana stacca già. La campana cade a terra ed il lupo stenderà. Bertolini, il lievito delle meraviglie. Il tuo telecomando non funziona più? O si è rotto? Ehi, oggi c'è Gun Body Meliconi, l'unico telecomando universale in gomma, con le funzioni del tuo telecomando originale. E poi, grazie al suo corpo in gomma, Gun Body si cade, rimbalza e non si rompe. Gun Body Meliconi, mai più senza telecomando. E con Space System Meliconi, in poco spazio sistemi la TV e il videoregistratore. E grazie al coprifilo, mai più fili sparsi. Gun Body e Space System Meliconi, due idee intelligenti. Allunga e solleva le tue ciglia con il nuovo Mascara Endless di Rimmel. Con uno sguardo otterrai ciò che vuoi. New Endless Mascara, Rimmel London. Nuovo Plytex Magic Feeling. Leggero come un soffio, delicato come un velo. Grazie alla sua elasticità variabile. Plytex Magic Feeling. Assoluta sensazione di benessere. E vai, relax. Alla rotonda, svolta a sinistra. Vai, vai navigatore satellitare, mi piaci molto. Alla rotonda, sul mare. Il nostro disco che suona. Il nostro disco cosa, dai? Che suona. Dove siamo qui? Alla rotonda, alla rotonda, alla rotonda, alla rotonda. I Gator dalle mie rotonde! Adesso ti frego io. Pagine utili. Ovunque tu sia, ritrova la strada perduta. E magari un elettrauto che si occupi dell'automobile. Finalmente l'Air Max Plus 5. State per assistere al futuro del mondo delle scarpe. Osservate. Ma questa è solo una scatola con una luce densa. Scusate, è colpa mia. Illustri colleghi, il futuro promette bene. Solo da Footlocker. Canta tu! Con Canta tu puoi cantare sulle basi dei grandi successi. Quello che ha proprio... Lo colleghi alla TV e segui le parole sul video. Canta tu! Tanti cd con il meglio della musica italiana e straniera. Dai voce alla tua musica! Canta tu! Ciao. Presto sarò a casa. La nostra musica è nel cd. I fiori sono freschi, li hai visti? I mosceri sono al solito post. Adesso so che non mi ascolti. Non fare il solito gioco di non aprirmi quando arrivo. Moncheri. Il calore che ti avvolge. Se in tavola vuoi il formaggio sempre fresco, non ti resta che prendere Gratì. Più forte di così. Gratì. Da Ariete. Il genio della casa. La nuova Hyundai Getz ha tanto spazio per la testa e per le gambe. Infatti, è così spaziosa che può contenere un dinosauro intero. Nuova Hyundai Getz. Misurata fuori, smisurata dentro. Da 8.950 euro. Arriva McCain. Patate così. Non le avete mai viste? McCain e Vissero Felici e Croccanti. Ehi, bambini! Psst, psst, state guardando il programma giusto per voi? Controllato il bollino? Se è verde, va bene. Se è giallo, va bene. Ma solo se c'è un grande lì vicino. Se è rosso... Eh, no, no, no. Se è rosso, cosa ci fate lì? Ananna è tardi. La tv è un'amica. Usala con intelligenza. Ok. E su TG.com tutti i particolari della querela del ministro delle comunicazioni Gasparri contro il presidente della regione Lombardia Formigoni, che lo ha apostrofato chiamandolo fascista. Ampio spazio ai pareri dei lettori. Finiranno sotto processo tre dei paparazzi che la notte in cui Lady Diana e Dodi Al-Fayed morirono in un incidente stradale li fotografarono mentre erano ancora agonizzati. E sempre più numerosi lettori del TG.com hanno scelto di ricevere le notizie anche via SMS sul telefonino cellulare. Vi ricordo che a pagina 556 di Media Video trovate tutte le informazioni per abbonarvi e accedere al servizio. Le trovate anche al nostro indirizzo internet www.tgcom.it Vi lascio al film subito dopo Maurizio Costanzo Show con una grande festa per Gigi Proietti con gli attori comici usciti dal suo laboratorio. Buona serata. Questo programma è offerto da Ferri. Tutto per tutti. L'arrivo di due perturbazioni, un'Atlantica e una Nordafricana porterà nubie e piogge su gran parte dell'Italia con qualche temporale su Calabria e Puglia ed eboli nevicate sulle Alpi oltre 1400 metri. Temperature massime in calo di 2 o 3 gradi al centro, forte sciroppo su Ionio Adriatico e basso terreno, libeccio sulla Sardegna. Dati servizio meteoronautica e elaborazione grafica Exxon. Da Neutro Roberts Venerdì alle 21 su Canale 5. Guarda come mi ha ridotto! E promettete di amarvi e proteggervi? Tutti i giorni il dentifricio Iodosan Protezione Globale aiuta a proteggere denti e gengive lasciando una fresca sensazione di pulito. Iodosan Protezione Globale, chi si ama, lo fa tutti i giorni. Sentito tutti i giorni. Sani, forti, belli, capelli Pantene. Partecipa alla selezione Pantene Protagonist e diventa un volto Pantene. Pantene e sei il protagonista. Golden Lady, grande amica. Da EV Matiz, l'essenza di una grande auto. Qualità senza risparmio. Un risparmio senza qualità. Scegli il nuovo sole da matrice. Un pulito è una freschezza naturale. Che dura ancora più a lungo. È una freschezza incredibile. Che non finisce proprio mai. Asciutto scopri Vodafone Live MMS, suoni, giochi, servizi e informazioni da vivere sul tuo nuovo cellulare Vivi Live da Vodafone Omnitel dalla ricerca Melling i nuovi omogenizzati di pesce nasello, platessa, orata e altri ognuno con un principio nutrizionale importante per la sua crescita Melli, ricerca e nutrizione Ehi, lava i capelli non il colore Fructis Color Resist il nuovo shampoo e micro oli di frutti che lava senza lavare via il colore shampoo dopo shampoo il colore dura più a lungo i capelli mantengono la loro brillantezza Garnier Fructis Color Resist shampoo e balsamo e il colore resiste Garnier Bailies, fate scegliere i vostri sensi 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 Filadelfia Ma che Filadelfia? Non è quello vero Infatti, ecco l'originale Riconosce la pennellata Filadelfia, un piacere senza confronti Provalo alle erbe, al salmone, alle olive Filadelfia Fantasie Irresistibile Calze San Pellegrino Filate per durare San Pellegrino Dea delle donne Hai mai pensato quante cose possono ogni giorno disidratare i tuoi capelli? Dove Shampoo, con un quarto di latte idratante Penetra nei tuoi capelli E li idrata ad uno ad uno, in profondità Rendendoli morbidi e luminosi, come mai prima d'ora Dove Shampoo, idratazione imbattibile Beh, mio marito mi tradisce La stanza 101, la signorina è già arrivata Grazie Secondo me esageri con Cirino No, tu sei troppo giovane Non conosci gli uomini Ma conosce bene tuo marito Non è che sospetta di noi Ma te ne hai Partiamo dal presupposto che suo marito è un imbecino Un buon presupposto Ci possono vedere qui? In effetti hai ragione Per approfittarne Sono andata a letto con un altro Sì, con l'uomo regno In prima visione, Il bello delle donne 2 Regia di Maurizio Ponzi Domani alle 21, su Canale 5 Mamma, papà, i miei fratelli Io non ci riesco a vivere senza di voi Datemi la possibilità di farmi conoscere il vostro nipotino Io non so se ti ricordi di me Mi sono venuta a cercare perché mi sei mancata tanto Io mi sono sposata C'ho un bambino E ho tanta voglia di abbracciarle Maria De Filippi C'è posta per te Sabato alle 21, su Canale 5 È sempre la stessa storia Ogni anno i maltrattamenti di insalate Si moltiplicano La cena del corso di vela era in pericolo Il cuoco? È in stato di amnesia E adesso? Lei era quasi perfetta Mancavano solo pinoli tostati E un olio dal sapore fresco E vivace Bertolli Fragrante Quel profumo era da perdere la testa Quello dell'insalata intendo Bertolli Fragrante Mai più un piatto piatto Nuova Sab 9.3 Sport Sedan Sport per protagonisti I miei atleti li conosco bene Per questo so che il deodorante giusto È nuovo Infasil Tripla Protezione Regola la sudorazione È clinicamente testato per essere delicato E tiene freschi a lungo Nuovo Deo Infasil Amore per la protezione I capelli stressati presentano 6 sintomi evidenti E se io non li ho Una ragione c'è Uso il balsamo Pantem Pro V La sua formula unica alla provitamina Combatte tutti i 6 sintomi Scarsa pettinabilità Opacità Secchezza Fragilità Assottigliamento E doppie punte E li vedi forti e sani Come tu li vuoi 6 sintomi Una risposta Balsamo Pantem Pro V Combatte i 6 sintomi Dei capelli stressati General Trade Le decorazioni natalizie Che colpiscono al cuore Deborah risveglia i sensi Con un nuovo piacere Nuovo rossetto extra di Deborah Scorri sulle tue labbra Grazie alle sue speciali polveri sferiche Regalandoti un piacere e un colore Mai provati prima Nuovo rossetto extra di Deborah Il piacere tutto nuovo Tutto tuo Se la tua prima colazione è così buona Che non vedi l'ora di mangiarla Vuol dire che è Vitalis Croccanti fiocchi di cereali e frutta In un muesli unico Per una colazione sana Gustosa Croccantissima Vitalis Il muesli Coi fiocchi Fratelli La tosse vi fa danale Con Bronchenolo ritrovate la pace È un medicinale Può indurre sonnolenza Non usare sotto i due anni Leggere il foglio illustrativo Se la tosse persiste Consultare il medico La mousse La mousse La mousse È nata La mousse di sapone Neutro Roberts Extra dolce Ultra idratante Mousse di sapone Già pronta Da Neutro Roberts La mousse La mousse La mousse Dolcezzo a piene mani Vivi live Scopri Vodafone Live MMS Suoni Giochi Servizi E informazioni Sul tuo nuovo Panasonic GV87 Da Vodafone Omnitel Non posso stare senza Otello Otello Perché è nuovo Novi Cioccolato per passione Dal 1903 Dino Dammi il crudino Buono Quante è? 10,50 euro Sarebbero 50 euro Ma lo sai che in questo bar Non era mai capitato Un gorilla E c'è credo Gusti prezzi Crudino Ehi Ehi Ma è stupendo Eh già Mia sorella ci lascia Bobby per un po' Nasce Fiat Stilo Multi Wagon Fuori Station Wagon Dentro Mono Volumi Scoprite la sabato 23 e domenica 24 in tutte le concessionarie e succursali Fiat Il problema dei fondotinta è che si sciolgono e non durano Sono Sally J Makeup Artist del Film Possession Lasting Performance di Max Factor è diverso Grazie allo speciale sistema no transfer dura perfettamente fino a otto ore Così puoi abbracciare chi vuoi senza lasciare tracce Lasting Performance di Max Factor A Natale c'è un regalo che fa subito festa È Kinder Sorpresa Christmas Da una palla di cioccolato escono sorprese grandissime Con cui divertirsi, giocare, suonare C'è più festa a Natale con Kinder Sorpresa Il cervello della specie umana possiede aree in cui emergono logica Calcolo, razziocinio Altre, fantasia, creatività, intuizione Quale sia la più sviluppata nell'uomo del nuovo millennio non è dato sapere Sappiamo solo che da noi, per essere vincenti, bisogna averle entrambe ben allenate Chi vuole essere milionario, domenica alle 20.30 e da lunedì tutti i giorni alle 18.40 su Canale 5 O è solo fortuna? Nuovo Caleo Il robot con il porta accessori Tefalla, tu pensi a tutto Gran biscotto Gran biscotto È solo rovagnati Mamma, papà, sono tornato È un nuovo fratellino Ma siete tutti mati Un topolino Salve Adottato per davvero Mi sento un palmo da terra Ma in famiglia c'è a chi rode per l'invidia Non si mangiano i familiari Perché con Stuart Tutto è uno spasso Patrone di un gatto E ogni sfida diventa grand con quass Non sono il tuo micetto Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego La cena è servita I grandi amici Non si misurano dall'altezza Forza Stuart Stuart Little Un topolino in gamba Prima TV Canale 5 A Santo Stefano Alle 21 Potresti svegliere E perché dovrei svegliere? È il mio programma preferito Nasce 3 La videocomunicazione mobile Tu con la forza di 3 I wanna be 3 Miracle L'alba di un nuovo giorno Lancome Silent night Holy night All is calm And all is bright Round young virgin Mother and child Sleep in heavenly peace Sleep in heavenly peace E con Ferrero È un bellissimo Natale Sulla strada Bullock vince Ogni mille auto protette Ne difende 998 Bullock è piccolo È leggero Facile da installare Automatico Antitrapano Antitaglio E in più Bullock Bullock ti offre anche il bonus furto Bullock L'antifurto con le palle di sicurezza Per sempre Il nuovo disco di Adriano Celentano In due versioni CD e CD più DVD Con 20 minuti di immagini inedite Gianni Campagna Sartoria in Milano Augura buone feste Polenta Valsugana Facile Bella Buona Sana Polenta Valsugana L'effervescente naturale Gaudianello E i campioni di nuoto Augurano a tutti Buone feste Ogni giorno Dal mare La qualità dei prodotti Riunione Riunione Bontà di mare Grazie 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 Forse non ci hai mai pensato Ma sono proprio i tuoi acquisti Anche i più semplici Che fanno girare l'economia E se l'economia gira Ci guadagniamo tutti Almeno un grazie L'economia Gira con me Grazie È un'iniziativa UPA E' stata la mini belletta? Guarda Babbo Natale con la slitta Ma non lì Fuori Salumi Beretta Spariscono in fretta Il tuo guardo è Leano Sono stanco di dover compiere tanti destini e tante imprese Non sono un pantocchio neanche per gli dèi E cosa vuoi fare allora? Ribellarti? Ascolto Di avvenimento di tutti i tuoi figli Dolce Gabbana Parfum È in arrivo un anno di intense emozioni Grandi personaggi che hanno fatto la storia Vicende che hanno commosso intere generazioni Lo spettacolo unico della grande fiction di Canale 5 Pace Il Papa Buono Noi rinnoviamo oggi questa solenne invocazione I gioielli di Madame D'Utto Non servono parole per dire questo Vittorio Zivago Benedetti dal Signore Ti voglio bene L'ultima pallottola Più veloce Più veloce Ferrari Costruire Una macchina Unica Che volasse Il nuovo anno Della grande fiction Di Canale 5 Tom Hanks Paul Newman Jude Law Era mio padre Nei cinema Un programma offerto da Margherita Mazzei Lingerie La seduzione Diventa moda E vi auguro Buone feste Cari amici La nostra serata insieme prosegue con la commedia interpretata da John Goodman e Peter O'Toole Sua maestà viene da Las Vegas Prima però vi voglio ricordare che domani sera alle 21 tornerà uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi del Natale di Canale 5 Dall'aula Paolo VI in Vaticano Cristina Parodi presenterà la decima edizione di Natale in Vaticano E ora vi lascio le immagini del film per tutta la famiglia Sua maestà viene da Las Vegas A più tardi A più tardi La videocomunicazione mobile Tu con la forza di tre Se osassi lasciarmi andare Che male ci sarebbe La vita non è bianco e nero È oro C'è un'officina dove trovi la competenza Che desideri per auto di ogni marca Dove trovi l'assistenza più completa e il servizio più accurato Dove ogni problema è risolto con un sorriso Bosch Car Service L'evoluzione dell'officina Crudocotto Gran Biscotto Che vuoi? Prosciutto Crudocotto Gran Biscotto Crudocotto Gran Biscotto Gran Biscotto Grazie Ti piace il Gran Biscotto Gran Biscotto È solo Rovagnati Don't touch my braille Pensi che ci rivedremo? Chissà Cento minuti di telefonate Mille foto e video gratis Mille modi di fare gli auguri con WheelCard Rivolgiti ai rivenditori Win Prendere lo stesso treno dieci anni dopo Gratis Due settimane in giro per l'Europa Gratis Visite guidate alle bellezze delle città Gratis Scoprirsi amici più di prima Non ha prezzo Con il concorso Replay Mastercard Più usi la tua carta Più possibilità hai di vincere un viaggio dove vuoi E con chi vuoi Ci sono cose che non si possono comprare Per tutto il resto c'è Mastercard Tu sogni Fai progetti Lavori Ti appassioni Ti arrabbi È normale Una persona su 700 nasce con la sindrome di Down Una condizione genetica che rende più difficile la conquista di una vita normale Le persone Down possono dare molto Purché ne abbiano l'opportunità L'associazione Vivi Down lavora per offrirgliele Saperlo serve Essere disponibili serve di più Lo sai che hai degli occhi incredibili? Non dovresti chiuderlo mai Voglio sapere Voglio la verità Un film di Adrian Lyne L'amore infedele Dal 20 dicembre al cinema Questo Natale Fatti chiamare Entra in Vodafone Omnitel fino al 6 gennaio E con Eurobonus ti regaliamo un euro di ricarica ogni mezz'ora di chiamate ricevute in un mese Miraclo L'alba di un nuovo giorno Lancome I regali non finiscono mai Entra in Vodafone Omnitel Fino al 6 gennaio la ricaricabile costa la metà Buon Natale Da Vodafone Omnitel Ehi salumi di Beretta? Guarda, Babbo Natale con la slitta Ma non lì, fuori Salumi Beretta Spariscono in fretta I wish I could share all the love that's in my heart Remove all the bars that keep us apart I wish I could do all the things that I can do Though I'm way overdue I'd be stunned Well, I wish I could be like a bird in the sky Though I'm way overdue I'd be stunned And be knew I wish I could do all the Ο